Kelly Rollenstone e Bruno Mozzani catechizzano il gruppo. Sono le immagini rubate prima dell'ultima seduta di allenamento settimanale dei City of Lions che vivono la grande vigilia. Scattano infatti domani i playoff promozione con i bianconeri che dopo il terzo posto al termine della stagione regolare vogliono a tutti i costi raggiungere l'ultimo atto. Per farlo sarà necessario sbarazzarsi dei Liguri di Prorecco. Squadra bianconera al gran completo per il match di andata. Il mediano d'apertura francese Barrault è definitivamente recuperato e in gruppo ieri al Bertolini si respirava un clima di grande serenità. Segnali importanti prima di un match che i Leoni vogliono conquistare per riuscire finalmente dopo due stagioni consecutive ad agguantare finalmente la finalissima per l'accesso all'eccellenza. Vigilia molto importante. Che partita dobbiamo aspettarci Kelly? Penso una partita per noi in casa, una bella occasione di fare vedere il nostro gioco. sarà una partita molto dura come tutte le semifinali. Ha giocato su due partite, non solo uno, quindi sicuramente non sarà vinto né perso qua. Noi cercheremo di fare il nostro meglio, portare a casa la partita per andare lì in una posizione buona. Cos'è che temi maggiormente di loro? Sicuramente il Recco è una squadra che ha la mischia molto forte, un touch molto organizzato, una squadra che è molto efficace, ti dà poca possibilità e quindi da loro parte aspettiamo questo tipo di gioco. Da noi, noi vogliamo continuare il nostro sviluppo, credo che abbiamo migliorato molto e quindi noi faremo un gioco sicuramente un po' più largo, cercheremo di dare ritmo e quindi due stili contrasti. Matteo Rossi ormai un abitue per questi appuntamenti? Sì, diciamo che abbiamo la fortuna di vivere le ultime stagioni sempre al vertice, ci manca sempre uno step per raggiungere il traguardo. I Leoni non sono appagati ad aver centrato il traguardo dei play-off, si vuole fare qualcosa in più quest'anno forse? No, era l'obiettivo minimo quello dei play-off, fortuna ci siamo arrivati nella condizione fisica giusta e adesso stiamo cercando di fare meglio dell'anno scorso. Ci aspettiamo un gioco di tanti calci però temiamo tanto di avanti, le loro spinte, le loro molle. Il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto e adesso puntiamo ovviamente a fare di più dell'anno scorso.